buongiorno amici miei allora oggi vi faccio un video in risposta anzi è stato proprio richiesto da simone simone è un mio cliente che ha acquistato la sfida dei 28 anzi la sfida perfetta quindi non può annoverarsi tra i miei clienti dei percorsi personalizzati ma è comunque un cliente che ha aderito all'offerta della sfida perfetta ricordo per quanti non lo sapessero veramente molto pochi che la sfida perfetta è un percorso di quattro settimane standard con abbinato un videocorso di 20 video lezioni nelle video lezioni vi spiego come gestire la strategia come gestire l'obiettivo come gestire i pasti in società insomma è un videocorso completo sull'organizzazione di un nuovo stile di vita nel percorso di quattro settimane alimentari invece avete la possibilità di capire e applicandolo perdere i primi 4 5 chili vi prometto io in quattro settimane simone l'altro giorno mi ha scritto e mi ha detto che in una settimana ha perso 3 chili e 300 grammi però un giorno ha sgarrato pesantemente quindi mi oltre a ringraziarmi per la potenza del percorso perché insomma se io ti prometto 4 5 chili in quattro settimane tu me ne perdi 3 chili e 3 in una settimana e poi la validità delle video lezioni tutto questo per una miseria 69 euro capite bene quanto io mi sia auto rapinato ma la mia come dire magnanimità e risaputa quindi simone mi dice puoi fare un video dove spieghi come fare per rimediare allo sgarro ma questa richiesta in realtà me l'ha fatta simone ma me la fanno tutti i miei clienti anche quelli che entrano nel percorso personalizzato perché c'è questa idea di vabbè io sgarro però devo trovare un sistema per rimediare allo sgarro allora amici miei se esistesse un rimedio per azzerare lo sgarro sarebbe facile come inventare la pillola le gocce il sistema che ti fa dimagrire e non ti fa più ingrassare in realtà non esiste ma perché non esiste perché io ti dovrei dire ok allora tu in un giorno hai fatto schifo hai mangiato l'impossibile da colazione a cena perché ti è partita la brocca perché non sei riuscito a gestire la tensione di essere passato da un regime in cui hai fatto sfracelli ad uno in cui non provi fame ma provi un forte desiderio perché ragazzi parliamoci chiaro il problema dove sta se io la mattina mi alzo e faccio colazione con le gocciole poi vado al bar e divido una brioche con il mio collega o con la mia collega poi a pranzo magari mangio al bar un panino e bevo una coca cola poi il pomeriggio col collega nuovamente la merendina il biscottino eccetera la sera prima di rientrare a casa l'aperitivo a cena che si mangia ma facciamo la pizza ma mangiamo il sushi ma mangiamo il primo e il secondo e poi assaggio qualcosa dei miei figli la sera vicino al divano ci mettiamo la bottiglia della birra o il sacchetto delle patatine o la frutta secca o il cioccolato capite che passare da questo sistema ad un sistema che prevede 5 pasti al giorno dove tu puoi mangiare in quantità ma non hai la soddisfazione che ti può dare la patatina la birra l'aperitivo il cioccolato la merendina la brioche è chiaro che si fa fatica è chiaro che il tuo cervello ti richiede fortemente e pesantemente il cioccolato i dolci i grassi e quant'altro allora non esiste un rimedio allo sgarro cioè tu hai sgarrato pesantemente un giorno io per rimediare cosa ti dovrei dire digiuna tre giorni non ce la fai non è possibile non è umano e soprattutto non è la soluzione perché così tu mandi impulsi al cervello da dire ok adesso io digiuno tre giorni ce la faccio resisto tanto poi quando finisco il digiuno ho capito come devo fare risgarro un altro giorno e magari digiuno quattro giorni purtroppo non funziona così se esistesse un antidoto efficace e semplice tutti lo metteremmo tutti diremmo mangia questo poi se sgarri fai quest'altro no il problema è capire che non bisogna sgarrare oppure non bisogna sgarrare nell'immediato nella prima settimana nelle prime due settimane ma io direi nel primo mese nel primo mese per poter orientare la mente al rigore e al cambiamento di mentalità noi dobbiamo essere rigorosi appunto dobbiamo mangiare a sazietà non dobbiamo patire la fame e dobbiamo imparare la differenza tra fame e desiderio quando tu hai fame fame vera ti mangi le foglie dell'insalata senza condirle mangi qualunque cosa ti capiti a tiro l'appetito è diverso l'appetito è quella pensiero che ti fa dire adesso mi farei una bruschetta poi metterei un pezzettino di formaggio e un bel mezzo calido di rosso e sono a posto quello è l'appetito la fame ti fa mangiare anche la polvere del tappeto allora noi dobbiamo imparare a dominare soprattutto all'inizio l'appetito il desiderio che è una cosa diversa dalla fame perché io a tutti i miei clienti dico hai fame in qualunque momento del giorno mangiati una cassetta di finocchi mangiati una cassetta di carote mangiati le mele bevi l'acqua è chiaro che i miei clienti le carote vorrebbero infilarmele dove a me non è che piaccia tanto no e allora capite come è necessario dominare capire che noi non abbiamo fame perché con me non si patisce la fame mangi quanto vuoi con me devi combattere il desiderio che è una cosa differente ecco perché non esiste l'antidoto allo sgarro esiste la mente concentrata e io che cosa ho risposto a simone a simone ho risposto nel messaggio ne ho fatto una storia giorni fa ho detto simone pensa all'obiettivo cazzo sei stato bravissimo sei partito una settimana tre chili e tre e vuoi sputtanare tutto perché ti è venuta la fobia concentrati gestisci domina non si può essere schiavi di qualcosa men che meno di qualcuno quindi dominate la mente agite con giudizio e con intelligenza capite perché mi devo far fottere da questo desiderio perché realmente non ho fame e allora è lì che dovete intervenire forza per chi ha comprato ha comprato la sfida perfetta mandi un'email ad info chiocciola claudio manzone puntocom ci sono novità per voi straordinarie per chi non l'ha comprata spiazza grazie a tutti